Signori, prima di partire con questo che è il video più terrificante di tutto quanto il mio canale Voglio ricordarvi che il primo maggio sarò al Comic Con di Napoli per il firma copie del mio libro The Survival Game Che se ancora non avete acquistato lo trovate su Amazon o in tutte quante le librerie d'Italia Per una storia super super creepy, quindi mi raccomando, non mancate il primo maggio al Comic Con Tutti quanti vi aspetto Detto questo, buona visione Signori, l'avete sentito? E' la quarta volta che mi bussano, sono le tre e mezza di notte, non sto scherzando Guardate raga, sono le tre e mezza di notte Non so chi, caspita, mi sta bussando, guardate, è completamente notte Oh mio Dio, oh mio Dio raga Oh mio Dio, non so che devo fare, non so che devo fare ragazzi Non so che devo fare Continuo a bussare, continuo a bussare, c'è qualcuno che continua a bussare Sono le tre e mezza di notte, ok Probabilmente la dancing sarebbe a Lady Adesso usciamo e procediamo Signori, devo capire che caspita sta succedendo Oh mio Dio, raga C'è un lampione che si muove, non sto scherzando Ragazzi Raga Ma che cavolo Oddio 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 Non ci posso scusare Raga Raga Oddio Oddio Allora signori Allora signori Pensiamo a lungo che caspita possiamo fare Mi sto svegliando perché stavo veramente dormendo E infatti vedete ancora la mia voce Io direi di entrare in cucina E cercare qualche strumento Come questo qua ragazzi Perché questa volta la Dancing Serbian Lady non mi fregarà Questa volta la affronteremo Voglio giusto capire che caspita succede qua sotto raga Vediamo un po' Oddio Oddio Eccola È ancora qua Oh mio Dio Raga Questo è un maschio Questo è un ma Ci sta arrampicando No 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 Fermi Non è che questa qua mi entra in casa stanotte raga Se mi senti Stai ferma Stai ferma Oddio Ci sta arrampicando Ci sta arrampicando Raga No 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 Questa mi entra in casa Questa mi entra in casa raga Questa mi entra in casa raga È salita No 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 Qualche mistero Raga Raga Sta per entrare la Dancing Serbian Lady dentro casa mia E io non so che caspita devo fare Abbiamo un coltello Devo chiamare forse la sicurezza Devo chiamare la polizia È vero Probabilmente se chiamo la polizia Faccio la scelta migliore Però Chi caspita mi crede che è una vecchia Sta salendo Mi sta entrando in casa e mi vuole uccidere Perché è famosa e fa dei balletti su TikTok Quindi l'opzione migliore È quella di chiudere completamente tutte Quante le finestre Chiudiamo addirittura pure le luci Raga Dobbiamo rimanere nel buio più totale Perché come state vedendo raga Casa mia è veramente molto grande Guardate Qua c'è tutto quanto il terrazzo E questa pazza è in grado di arrampicarsi raga Quindi Assicuriamoci che Ok È tutto chiuso raga Perfetto Chiudiamo tutte quante le finestre Ok Fatto E adesso chiudiamo pure questa stanza qua In questo modo Siamo sicuri che non potrà mai entrare Facciamo così Mettiamo il blocco Quindi adesso Prendiamo le chiavi Ne mettiamo in tasca Prendiamo il nostro coltellone Signori e si scende Io vi giuro che se non vi iscrivete e lasciate like a questo video raga È proprio la tua Perché È uno dei video più epici In tutto quanto il mio canale Adesso scopriremo il momento della verità Io devo stare molto attento raga Molto 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 Sono le tre e mezza di notte Non ci posso ancora credere Ci siamo quasi Ci siamo quasi Ok Adesso Teoricamente Già da qua Dovremmo riuscire a vedere se c'è qualcuno Raga No C'è non c'è nessuno È scomparsa sta pazza raga È completamente scomparsa sta pazza Ma che caspita Ok Cambi Cambi Esci fuori Esci fuori Ho un coltello Sono armato eh Sono armato È completamente scomparsa Fermina Oddio Oddio Raga Raga Quali sono Ma che cazzo Raga Raga fermi tutti Raga fermi tutti C'è uno Sono due No 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 Perché si stanno avvicinando Perché si stanno avvicinando Signori Signori Oddio 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 Fermi Fermi Raga Ok Ok C'è uno Ok Oddio 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 Raga Raga C'è qualcuno Oddio Raga Raga è salita Raga è salita Raga è salita È salita È salita È salita È dentro casa È dentro la lente Interna lente È dentro casa Oh mio Dio No 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 Non fermi tutti Non fermi tutti 3 minuti Fermi raga Non puoi essere entrata Veramente Oddio 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 No 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 Io chiamo la polizia Io chiamo la polizia Dove è il coltello Dove è il coltello Dove è il coltello Dove è il coltello Guardate un po' Raga Io non ho parole Io non ho parole E di fronte a me Questa è entrata in casa Io raga Io vado Io raga Vi dico prima Questa parte la taglio Questa parte la taglio Se va a finire male Questa parte Oddio 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 Che cazzo Aiuto 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 Oddio 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 Io ho voluto bene Io ho voluto bene Io ho voluto bene Io ho voluto bene Oddio Sono pronto Sono pronto ad affrontarti Sono pronto ad affrontarti Raga Raga Oddio 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 Fermi tutti Fermi tutti Fatti avanti Fatti avanti Raga sei andata Raga sei andata Sei andata Oddio 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 raga Questo è il video più inquietante che abbiamo a me registrato Gli ho voluto bene raga Gli ho voluto bene per qualsiasi cosa Gli ho voluto bene Raga È in casa Raga è in casa Questa si è nascosta da qualche parte Forse nello studio Forse nello studio Vediamo No Non c'è nessuno qua È di là raga È per forza di là È per forza di là Ok Ok C'è la finestra ancora aperta ragazzi C'è la finestra ancora aperta Oddio Dove caspita è raga Non ho idea Sapete che va Io scappo di casa Io vado direttamente Sì Scappo di casa Giù sì Giù sì Giù sì Giù sì Oh Dio No raga Che caspita sta succedendo qua Oddio Oddio No 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 Questa è la mia Questa è la mia Oddio 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 È fa mia Oddio 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 Grazie a tutti.